Musica Cambiamo argomento, parliamo di teatro, sapete quanto noi a mattina 9 teniamo a questo argomento e proprio in tema di teatro vi diciamo che lo stesso sta vivendo un momento fervido, un periodo d'oro del teatro italiano premiato dagli spettatori con dati di pubblico e di incasso sempre più alti. Un momento veramente fervido considerato che negli ultimi periodi si è parlato un po' di crisi teatrale noi cerchiamo però di analizzare questo momento, questa fase di rinascimento teatrale attraverso una delle eccellenze del nostro teatro partenopeo ma in realtà del teatro italiano perché è presente soprattutto nel territorio nazionale diamo i buongiorno a Claudia Mirra del teatro Diana. Bentrovata, bentrovata dottoressa. Dunque abbiamo detto che in realtà il teatro italiano sta vivendo un periodo di rinascita culturale perché c'è stato un periodo possiamo dire un po' buio dovuto anche però ad alcuni tagli alla cultura ritiene che sia effettivamente vera questa definizione? Si sta assistendo alla rinascita teatrale? Beh io diciamo per avere una rinascita dobbiamo parlare di una decadenza, una decadenza vera e propria non c'è mai stato nel teatro basta pensare dall'antica Grecia il teatro ha sempre vissuto e quindi c'è sempre stato sicuramente diciamo magari c'è stato un periodo un po' più ma diciamo di oscuro forse ma di una vera e propria rinascita non possiamo parlare anche perché i dati parlano chiari basta pensare stesso partendo da Napoli noi siamo come città proprio abbiamo degli indici altissimi di spettatori, di fruttori di sala, di affluenza sala e il teatro Diana è sicuramente il primo teatro in Italia come numero di spettatori, come numero di abbonati proprio poi quest'anno abbiamo toccato i 10.000 abbonati ci avviamo alla 39esima stagione di prosa quindi già da 39 anni noi presentiamo cartelloni con abbonamenti che cominciarono i miei genitori e adesso ancora noi insomma facciamo questi abbonamenti raggiungendo quota 10.000 quindi diciamo che una vera e propria decadenza non si è mai avuta senta le chiederei se da qualche anno a questa parte il teatro se non c'è stata una decadenza o una flessione in termini di affluenza se però c'è stata una trasformazione proprio nella offerta teatrale cioè se il teatro non è più quello di prosa classico cui siamo abituati cui soprattutto il Diana ci ha abituato nel corso di questi anni ma è un teatro più legato magari alle masse, allo spettacolo ecco alla parola spettacolo che è una cosa diversa diciamo che la cosa importante almeno per quanto ci riguarda è quello che abbiamo cercato sempre di seguire i gusti del pubblico la cosa importante è non ancorarsi su certe cose magari che passano e cercare di seguire soprattutto quelli che sono i gusti del pubblico aggiornarsi certo quello che si è notato è che anche l'età del pubblico però in questi anni si è molto abbassata qual è stata la motivazione secondo lei? la scelta di toni comunque più leggeri pur tenendo fede alla qualità del contenuto teatrale? sì allora sicuramente appunto i giovani si sono avvicinati moltissimo al teatro questo devo dirlo anche noi stessi abbiamo diciamo differenziato anche i tipi di abbonamento proprio per dare la possibilità anche ai giovani di avvicinarsi al teatro infatti noi facciamo sempre ormai da una ventina d'anni due tipi di abbonamento l'abbonamento che noi chiamiamo palcoscenico che ha un riferimento un po' più classico con spettacoli ovviamente anche di prosa e poi facciamo un tipo di abbonamento che chiamiamo quadrifoglio che solo quattro spettacoli quindi anche come prezzo un po' più contenuto proprio per i giovani dove proponiamo spettacoli adatti ad un pubblico più giovanile in modo tale che i giovani vengono a teatro senta a questo proposito noi siamo scesi appunto per le strade di Napoli per chiedere proprio ai partenopei che tipo di scelte effettuano al cospetto di un teatro quali sono i loro gusti che cosa vanno a preferire vediamoli insieme interessante di solito non di solito diciamo che manca a farlo apposto vado a domenica che spettacolo va a vedere? ma spettacoli diciamo leggeri operette cose diciamo piacevoli allegre ma sempre a varietà spettacoli quindi divertenti? sì che non ti impegna molto eh l'ho detto l'opera mi piace e poi anche appunto la commedia napoletana sì ci vado non con questa frequenza però per spettacoli comici? sì assolutamente spettacoli abbastanza leggeri qualche volta può capitare anche qualche spettacolo più impegnato ma preferiamo spettacoli leggeri sì 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 infatti quando viene qualche cantante come tipo Massimo Raniero io ci vado di sicuro perché mi piace proprio l'arte napoletana fondamentalmente musica classica musica classica è una voce fuori dal coro a questo punto perché il resto mi pare di capire insomma la voce è unanime ed eloquente si predilige uno spettacolo più leggero da un certo punto di vista lei come commenta questa tendenza? ma diciamo leggero bisogna sempre capire che cosa si intende rispetto naturalmente al campione di persone che abbiamo intervistato diciamo poi a Napoli quello che abbiamo che ogni teatro ha una caratteristica e quella è la cosa importante in modo tale che il pubblico sa dove devi andare se cerca quel genere di spettacolo questo è vero e questo è molto importante identificarsi e avere un'identificazione in tutte le cose penso che sia importante l'identificazione e penso che ogni teatro a Napoli abbia una propria identità è vero ogni teatro ha la propria identità l'identità del teatro Diana è comunque quello di avvicinare però il grande pubblico non solo al teatro in sé per sé ma a tante altre iniziative e progetti in premissa avvicinare i più giovani quando si parla di giovani si parla proprio di bambini avvicinarli al teatro quindi con delle rappresentazioni mattutine e non solo anche la presentazione di libri quindi inserirsi anche in questo altro filone culturale che è quello della letteratura sì infatti io dico che il Diana è aperto 24 ore su 24 quindi siamo sempre aperti perché la mattina ci dedichiamo agli studenti ai ragazzi con i nostri spettacoli prodotti da noi proprio per le scuole ecco anche questa è una cosa importante noi produciamo proprio spettacoli indirizzati ai ragazzi cioè non portiamo i ragazzi a vedere spettacoli magari non adatti a loro questa cosa fa sì che i ragazzi seguino di più e più facilmente il teatro infatti produciamo anche spettacoli per i bambini proprio di scuola elementare questo è molto importante esatto è importante perché portare i ragazzi così in massa a teatro senza dargli invece un qualcosa che possa essere per loro capito assolutamente e gli insegnanti vengono preparati prima vengono inviate delle circolari dove gli insegnanti li preparano a venire al teatro la mattina poi facciamo le appunto gli incontri con i ragazzi per le presentazioni di libri, letture di libri un'idea che è nata con il mio amico Maurizio De Giovanni che mi dette quest'idea io colsi subito al volo queste presentazioni di libri poi facciamo anche scuola abbiamo una scuola di recitazione, una scuola di canto e di musica e da quest'anno, dall'anno scorso abbiamo aperto anche la scuola di scrittura teatrale per i ragazzi questa per esempio è una novità la scuola di scrittura teatrale è davvero una innovazione è una novità sempre con l'aiuto di Maurizio abbiamo pensato per dare la possibilità esatto perché diciamo si sente la mancanza di autori teatrali intanto ricordiamolo però dottoressa stasera c'è una grandissima prima con due personaggi importanti con Lopez e Solenghi e c'è il sold out sì sì tutto diciamo pieno c'è questo ritorno dopo 15 anni di un ex purtroppo trio adesso coppia che ritorna appunto in teatro con i loro sketch le loro performance insomma straordinarie sarà uno spettacolo veramente tutto da ridere e stanno oggi sono ieri proprio hanno finito a Milano al teatro Manzoni di Milano dove hanno registrato il tutto esaurito anche lì infatti io questo prima dicevo il teatro Diana nella identità che sceglie e che predilige diventa poi un teatro sì partenopeo ma in realtà di caratura nazionale perché i personaggi che vanno a calcare il palcoscenico sono di caratura nazionale molte volte anche internazionale quindi è stata una scelta voluta, mirata sì sì infatti abbiamo avuto da poco abbiamo chiuso con Arturo Brachetti che possiamo parlare di sicuramente di un ospite che è stato da noi internazionale era appena tornato da Parigi con questo spettacolo quindi insomma è stata per noi una grande soddisfazione perché dà la possibilità anche di affacciarsi a quello che è appunto un teatro riconosciuto in tutto il mondo perché bisogna avere anche un metro di paragone per chi si vuole approcciare al teatro di quello che è Napoli, l'Italia e poi l'aspetto internazionale proprio dal punto di vista culturale Sì, sicuramente la cultura napoletana diciamo possiamo dirlo forte è una delle culture teatrali per eccellenza insomma diciamo ancora oggi i classici del teatro napoletano vengono rappresentati vengono rappresentati in tutto il mondo cosa che forse non avviene per altri autori veneziani, milanesi insomma la cultura napoletana e gli scrittori napoletani parlando da Edoardo per eccellenza insomma viene ancora oggi rappresentato basti pensare che molte delle commedie di Edoardo vengono rappresentate in Sud America in America quindi stiamo parlando di una cultura nostra veramente internazionale questo lo possiamo dire forte Lei, possiamo dire però, della famiglia Diana nasce proprio nel teatro Diana oramai è una generazione storica centenaria possiamo dire come si fa a gestire un teatro così importante che riesce ad ottenere sempre risultati superlativi ed eccellenti dopo tanti anni qual è il segreto di questo successo? posso dire che abbiamo avuto forse dei buoni maestri sicuramente mia madre che purtroppo non c'è più è stata un'ottima maestra e adesso invece mio padre che salutiamo esatto che è stato qui ospite da noi ha presentato quel libro fantastico che era veramente commovente perché è un po' la storia del teatro la storia del teatro sì, è un po' la storia del teatro Diana ma era anche la storia un po' del teatro a Napoli infatti lui ha raccontato molti aneddoti foto, dediche è sempre lì suo padre? sì, sì papà attivamente collabora con noi ed è un piacere averlo in ufficio siamo proprio con le scrivanie vicine quali le difficoltà? quali le difficoltà? se ve ne sono nella gestione? difficoltà in tutti i mestieri ci sono è sicuramente un mestiere quello che dico piacevole e non avrei potuto fare altro non ho mai pensato di fare altro perché io dico sempre perché sono cresciuta con pane e teatro perché a casa si parlava solo di quello da quando io ero piccola a tavola nessun dubbio? anche la domenica no, mai avuto dubbio ma lei si è cimentata anche in scena? no però ho fatto una volta un aiuto regia quindi qualcosa di dovrebbe provare adesso abbiamo una nipote mia nipote è la figlia di mio fratello che fa l'attrice Elisabetta Mirra anzi debutterà ha debuttato proprio al San Carlo in Così parlo a Bella Vista che poi sarà da noi nel periodo di Natale bocca al lupo all'Elisabetta e anche mia figlia sta all'università ma ha già deciso che mi seguirà anche lei la carriera si segui all'impronte della mamma si, si seguirà come si chiama sua figlia? Laura diciamo in bocca al lupo in bocca al lupo a Laura sta solo al primo anno di università però insomma il teatro Mirra il teatro Diana è conosciuto anche per le produzioni quindi ci sono produzioni che voi decidete ecco di mettere in scena partendo proprio dalla vostra proprietà sì infatti noi produciamo anche spettacoli teatrali diciamo quella un po' la nostra anche attività forse più frenetica possiamo dire perché chiaramente quando si allestisce uno spettacolo bisogna essere insomma come si suol dire in piena attività in piena attività adesso proprio abbiamo avuto il debutto di Salemme poi avremo tra poco a gennaio il debutto di Massimo Ranieri con il Gabbiano quindi siamo in... Salemme che non tradisce mai è sempre un... Salemme è uno di casa è di casa da noi possiamo dirlo insomma quando viene per noi è una gioia perché veramente è di casa quindi tra poco finita la nostra chiacchierata lei si richiede al teatro Diana perché dovrà incontrare quindi Lopez e Solenghi per questa primissima teatrale di questa sera siamo in pieno montaggio di scene adesso al Diana stanno montando le scene e stasera saranno pronti per il debutto con un grandissimo pubblico pronto ad applaudire è sempre presente al teatro di Diana noi ringraziamo la dottoressa Mirra per essere stata con noi e per averci raccontato le bellezze del nostro capologo partenopeo in termini teatrali grazie grazie a voi e buona giornata a tutti grazie restate con Mattina 9 tra pochissimo le pilole di salute di Espedito Pistone dopo la pubblicità grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti